E' arrivato l'ultimo appuntamento della rassegna letteraria Fogli di Tè, organizzata dal Comune di Cavriglia nel Salone del Granaio di Villa Barberino. Il 2015 è stato un anno importante perché la rassegna ha raggiunto le 20 edizioni ed è stata celebrata attraverso appuntamenti con autori davvero di spessore, Vincenzo Imperatore, Franco Cardini, Vanni Santoni, senza tralasciare Fabrizio Borghini e Jacopo Nesti. Si chiude la rassegna letteraria Fogli di Tè, l'ultimo appuntamento, domenica prossima alle 17 a Meleto Valdarno con Gianni Dragoni, un editorialista del Sole 24 Ore, nonché un collaboratore di servizio pubblico con Santoro, un economista che ha fatto il punto della situazione sulle banche, sulla crisi economica. In questo libro Banchieri e Compari è edito da Chiare Lettere, che è davvero molto interessante, quindi vi invito a partecipare ad un dibattito quanto mai attuale. Il quinto ed ultimo appuntamento vedrà come protagonista il tema della malafinanza e il cattivo capitalismo. argomenti molto attuali in riferimento alla società di oggi. L'appuntamento per gli amanti della lettura è fissato per domenica 15 marzo nel Salone del Granaio di Villa Barberini.